A seguito del gesto vandalico accaduto il pomeriggio del 30 dicembre nel quartiere di Sant'Orso durante il quale sono stati dati alle fiamme i bidoncini d'acciaio e un casottino degli attrezzi già precedentemente distrutti erano immediatamente partite le indagini della polizia locale di Fano la sera stessa con un sopralluogo per prendere atto dell'entità dei danni e delle possibili dinamiche. Il giorno successivo invece per raccogliere testimonianze sull'accaduto direttamente sul luogo. Questo tempestivo lavoro ha permesso di identificare sei ragazzi minorenni che sentiti alla presenza dei genitori hanno permesso di ricostruire l'accaduto. I danni seppur di lieve entità sono ancora in corso di accertamenti dalla polizia per individuare tutti gli autori e quantificare esattamente i danni provocati al fine di valutare e definire i provvedimenti da adottare in merito. La polizia locale si è subito mossa già dalla sera del 30 nel pomeriggio quando questi atti vandali ci sono avvenuti raccogliendo un po' le testimonianze e facendo un po' di foto del luogo e cercando di capire anche la natura dei danni. Questo è avvenuto praticamente nel giorno successivo, il 31, quando la polizia locale è tornata sul posto, ha raccolto qualche testimonianza e da queste testimonianze sono uscite comunque la missione spontanea da parte dei responsabili tutti i minorenni di questo gesto. Sono stati individuati quindi i sei ragazzi che si sono uniti a fare questa bravata, che ricordiamo è un gesto che va stigmatizzato. Sono stati sentiti insieme ai loro genitori e nei prossimi giorni verranno convocati da noi in comando proprio per capire quali sono i provvedimenti più adatti per questo tipo di infrazione. Sarebbe molto bello se riuscissimo anche a pensare a un progetto insieme ai ragazzi e insieme alle famiglie per ricostruire quello che hanno rovinato proprio per dare un segno a loro stessi e alla comunità nella quale vivono, che è il quartiere di Sant'Orso. Quindi sarebbe bello pensare di poter ricostruire questo casottino degli attrezzi del comune che è stato distrutto in più momenti. Quindi vedremo se questo sarà possibile e ci sarà la disponibilità anche da parte loro. Poi voglio aggiungere che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane saranno installate altre 16 nuove telecamere sia OCR che ambientali che permetteranno quindi di monitorare in modo più puntuale sia in termini di situazione, di quello che avviene appunto alla situazione ambientale, ma anche la presenza di macchine che siano comunque in regola.